Pietrasanta ha detto no alla tendopoli per l'accoglienza dei migranti. Con i soli voti della maggioranza di centrodestra è passata la mozione del sindaco Massimo Mallegni che una settimana fa aveva annunciato l'intenzione della prefettura di Lucca di allestire un centro profughi per 75 migranti al terminal bus scatenando fiumi di reazioni. Con il testo approvato in consiglio Pietrasanta, ad oggi unico comune della Toscana sopra i 15.000 abitanti a non ospitare, è pronto ad aprire le porte ma solo a rifugiati già identificati e certificati e solo dopo aver sistemato i residenti senza tetto e disagiati. Qui c'è un Parlamento che non rappresenta nessuno, un governo non eletto che continua a vessare e imporre sui cittadini delle scelte che dovrebbero essere condivise. Pietrasanta vuol dare l'esempio, speriamo che una cittadina così piccola come la nostra possa essere diciamo così un punto di partenza per migliorare la situazione dell'immigrazione, del sistema dell'immigrazione che l'Italia non sta gestendo da due anni. Bocciato l'emendamento a favore dell'accoglienza presentato dal Partito Democratico. Pietrasanta è sempre stata un posto accogliente, credo che alimentare queste paure non serva assolutamente a niente se non a prendere visibilità da un punto di vista mediatico per fini di carattere politici. A tenere banco lo scontro a distanza con il prefetto Giovanna Cagliostro che in questi giorni a mezzo stampa ha smentito il progetto della Tendopoli anticipato dal sindaco. Sono stati tecnici e dirigenti di Asle Gaia, uno chiamato a parlare in aula, a confermare la richiesta di sopralluogo della prefettura, sopralluogo eseguito il 15 settembre per allestire il centro profughi. Se la prefettura vuol fare delle proposte le faccia ma la prima cosa che deve fare quando invita gli attori, Asle, azienda dell'acqua, vigili del fuoco eccetera, deve invitare anche il comune di Pietrasanta nella figura del sindaco.